Ecco ti ho a parlare di calcio perché il Napoli non si ferma più e anche una partita ostica e molto remissiva, quella dell'atteggiamento remissivo degli avversari riesce ad avere la meglio, a riagganciare la vetta della classifica, insomma una vittoria da un valore enorme che dimostra ancora la grande identità ma la grande mentalità che sta presentando in queste ultime partite il nostro Napoli. Ne parliamo oggi in compagnia del nostro ospite che per appunto è rimasto qui accomodato al nostro saluto di mattina live, Bruno Maiorano, un giornalista del mattino. Dunque Bruno è stata una partita davvero complicatissima però nel derby del sole l'ha spuntata la squadra azzurra, insomma la squadra di Spalletti contro quella di Murigno. Sì è stata una bella vittoria anche perché c'è proprio Murigno che è un po' il filosofo della teoria per la quale preferisce vincere quattro partite 1-0 che 1-4-0 quindi questa volta insomma gli è andata male ma più che andargli male bisogna dire che ha giocato male. E possiamo dire che in realtà ha vinto la squadra che ha meritato di più, la squadra più forte? Vinto la squadra sicuramente più forte ma permetti di dire ha vinto la squadra che ha giocato a calcio perché la grossa differenza che si è vista ieri è stata proprio lì. Cioè una squadra come il Napoli che ha affrontato la partita a viso aperto senza timori irreverenziali di alcun genere nonostante si giocasse in un olimpico bellissimo, strapieno, completamente colorato di giallo-rosso contro una squadra che sposando un po' la solita filosofia di Murigno tende a coprirsi, a non far giocare agli avversari e poi colpire in contropiede alla fine la morale della favola è che Meret praticamente non ha fatto neanche una parata e questo poi la dice lunga. Esatto esatto. Tra l'altro io volevo chiedere anche un tuo parere in merito è stata questa contro la Roma la partita verità degli azzurri laddove si è visto per appunto come commentavi tu anche il peso del match, il reale valore di una squadra forte in mentalità che ha acquisito davvero carattere. Parlo del Napoli. Sicuramente quella di ieri è stata una partita ed una vittoria molto importante non solo per i tre punti anche perché mandi un segnale molto chiaro, molto diretto al campionato e a chi ti sta inseguendo. E credo che andrebbe messa sullo stesso piano la vittoria di Milano al Meazza contro il Milan perché vai a vincere in casa di due dirette concorrenti se non per lo scudetto almeno per un posto in Champions League e se a Milano hai anche un po' sofferto ieri hai anche dimostrato grande personalità e potertela andare a giocare su campi importanti. Grande personalità anche per quanto riguarda gli allenatori perché possiamo dire che finalmente Spalletti batte Murigno e in un'ottica come appunto dicevi tu laddove la Roma in realtà ha solo difeso, non ha giocato, non ha giocato la partita, aveva questa intenzione magari proprio di pareggiare, di non fare gol. Murigno credo che le voglia sempre vincere tutte e che la sua idea però è sempre quella di mi metto lì, aspetto, ho gli attaccanti veloci, rapidi che sono in grado di andare in contropiede e se non arriva il guizzo di Ozymen nel finale di partita alla fine avrebbe anche avuto ragione lui perché un po' gli errori degli attaccanti del Napoli, un po' le parate di Rui Patricio, la partita si sta mettendo sullo 0-0. Quindi possiamo dire che ecco, valore aggiunto e altro che aggiunto di Ozymen però a vincere la partita è stata anche la rosa lunga e profonda del Napoli, questa è un'altra caratteristica di cui possiamo oggi vantarci, come diceva Spalletti ieri dopo la partita non siamo l'unica squadra ad avere una rosa lunga, ad avere una rosa profonda, poi sta a noi saperla gestire e probabilmente riesce a raccogliere più punti, a fare più vittorie chi la gestisce meglio. Ieri è stato l'innissimo e ulteriore esempio di tutto ciò perché ieri la vittoria non è arrivata dalla panchina, cosa che invece solitamente accade con i cambi di Spalletti, ma lui stesso ha detto avrei voluto cambiare, poi ci ha ripensato e quindi comunque l'ha vinta lui. Esatto, è stata un'ottima intunzione di non cambiare Ozymen perché poi a decidere la partita e a decretarla, poi vincitrice del big match, è stato per l'appunto Victor Ozymen, ci aspettavamo una risposta da lui ed è giunta appunto quando doveva, insomma, il momento opportuno. Sì, anche perché prima del gol si era divorato un'occasione clamorosa che come ha detto... Poi un paio di occasioni create e mancate ci sono state. Lo stesso Spalletti ha detto quando ha sbagliato quel gol ero incredulo perché quello è un gol che uno come lui non sbaglia, mentre poi ne ha fatto uno ancora più bello e quindi va bene così. Ascolta Bruno, volevo sapere la tua opinione perché ecco anche su Victor Ozymen c'è il pubblico un po' divisivo, la platea e l'ambiente non ha parere monocorde. Secondo te l'anno giusto anche di Ozymen per essere finalmente consacrato, ecco lui ha delle potenzialità da poter esprimere ancora maggiormente o in realtà Ozymen è così come lo vediamo e oltre non potrà regalarci? No, beh, è talmente tanto giovane che almeno non augurargli margine di miglioramento sarebbe ingeneroso. Però va sicuramente detto che fino ad oggi è stato accompagnato da tanta sfortuna perché un attaccante giovane come lui con la fame che ha lui che ogni anno però deve saltare uno, due mesi, tre mesi sicuramente non lo aiuta quindi noi ci auguriamo che almeno da qui fino alla fine della stagione possa stare bene e possa essere sempre a disposizione di Spalletti e poi più gioca, più dimostra le sue qualità anche perché quello che sembrava un diamante grezzo con Spalletti si sta dimostrando qualcosa di più. Cosa gli manca però per fare il salto definitivo di qualità e quindi per essere consacrato? Ma semplicemente la continuità dal punto di vista fisico, cioè vederlo una stagione intera dall'inizio alla fine è un po' io credo anche il sogno dei napoletani perché c'è sempre quel voglio ma non posso cioè cosa sarebbe il Napoli con Ozymen da settembre a giugno? Senti, 11 vittorie di fila tra Champions e il campionato come appunto nell'anno del primo scudetto ovvero 86-87, una squadra perfetta, cos'è che potrebbe fermare il Napoli se non vi è riuscito nemmeno il pulma di Mourinho? Il Napoli, il Napoli è l'unico che può fermare se stesso perché fin quando continuano a giocare così continuano ad avere questa voglia, ad avere questa coesione, ad avere un gruppo così forte, così unito è difficile che il Napoli possa... Gli antidoti è veleno? Sì, sì, assolutamente, non devono montarsi la testa e da questo punto di vista Spalletti sta facendo il pompiere nel modo giusto e allo stesso tempo devono anche dare la giusta continuità di risultati. Bruno, senti, ci ha raggiunto anche in collegamento Gennaro Scarlato, Gennaro buongiorno, ex campione del Napoli, oggi allenatore della primavera del Benevento. Gennaro tutto bene, come stai? Grazie di questo collegamento. Ciao Mario, tutto bene, grazie, un piacere, grazie molto. Allora, stiamo commentando con Bruno Maiorano, giornalista del mattino, l'ottima vittoria del nostro Napoli contro la Roma, un Napoli che finalmente, ecco, ancora una volta riesce a acquistare e conquistare altri tre punti. Qual è la tua opinione o merito? C'è qualcosa o qualcuno che potrà fermare il Napoli se non vi è riuscito, appunto neanche il pullman di Murigno? Intanto saluto Bruno. Allora, io ho sentito sì, il Napoli può fermare il Napoli, effettivamente è una cosa giusta secondo me perché io non credo che si montino la testa, però bisogna sempre avere una continuità, sia di prestazioni, di risultato, bisogna fare le cose così come stanno facendo perché ci stanno dando soddisfazioni enormi, sia a livello europeo, sia a livello italiano che a livello italiano. Quindi io credo che in questo momento anche all'estero ci vedano come la migliore squadra, quella lì che pratica un calcio migliore rispetto a tante altre e lo stiamo vedendo e stiamo ottenendo i risultati. Io credo che Spalletti ha un ruolo fondamentale in questa situazione. Lui sentiva il fatto del pompiere che spegne il fuoco che tiene a bada i suoi. Io mi sembra che ieri mi è parso di capire che stava richiamando Gaetano di non giocare in maniera leziosa, mi è parso di capire. Quindi questo ti fa capire che è un allenatore che sta sempre sul pezzo, lì molto attento a curare i dettagli, a non far salire di pressione i suoi calciatori, soprattutto quelli giovani. Grazie, grazie Generali. Terminato il tempo, ma ritroveremo sicuramente occasione per riparlarne del nostro ottimo Napoli che sta davvero facendo emozionare tutti. Grazie a Generalo Scarlato per il collegamento e a Bruno Maiorano. Noi ci ritroviamo dopo la pubblicità. Restate con Mattina Live. Ciao a tutti.